Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il Fuzzi Mib che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem, più 3,68%. Le più forti vendite si manifestano su Uncsi, che prosegue le contrattazioni a meno 1,73% Tra le principali materie prime, l'oro è in calo, meno 0,71%, e si attesta su 1.758,1 dollari l'uncia Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base trimestrale che per quella annuale. È previsto domani sia dalla Spagna che dalla Francia l'annuncio dei prezzi al consumo Grazie a tutti